Ciala, è difficile commentare e parlare dopo una sconfitta. Cosa non ha funzionato oggi? È difficile spiegare tutto oggi. Abbiamo preso una partita che vale per noi molto, che volevamo vincere, però non l'abbiamo fatto. Abbiamo giocato contro un avversario forte, che giocano bene il calcio, eravamo in difficoltà. Poi con dieci è stato molto difficile fare gol, però alla fine l'abitro ha deciso così, dobbiamo rispettarci. Però noi dobbiamo credere, se è anche un po' difficile a dire, perché 13 punti sono tanti, lo so. Mi dispiace molto per i nostri tifosi, che prima della partita sono venuto, hanno dato una grande mano, però noi non abbiamo dato qualcosa indietro a loro oggi, mi dispiace per quello. Però, come ho detto prima, è stato difficile, 10 contro 11 è stato molto difficile per noi. È mancato forse anche un po' di cinismo, un po' di lucidità? Ah, quell'ultimo passaggio è mancato oggi perché avete fatto tanti tiri in porta, ma pochi nello specchio della porta. No, credo che anche in secondo tempo, con dieci, abbiamo provato gli ultimi 20 minuti. Se eravamo con undici, magari la musica cambia, no? Però è stato così oggi, la partita con meno un giocatore in campo, è stato molto difficile. Però noi dobbiamo guardare in avanti, cosa possiamo fare, niente altro. Abbiamo perso oggi e si continua a lavorare. Ultima, più una considerazione, forse è un bene che tornate subito in campo questo weekend. Contro la Cremonese avete la chance di cancellare subito questa sconfitta. Certo, dobbiamo cancellare subito questa partita. Domani sarà un nuovo giorno, con altra motivazione. Poi abbiamo, è importante, contro l'Atalanta la Coppa, si lavora, si analizza quegli orari che abbiamo fatto e poi si continua a lavorare. Grazie. Grazie.